Musica Più attenzione verso le professioni nella stesura delle leggi e quanto chiedono i tecnologi alimentari? I tecnologi alimentari così come tutte le professioni sono qui per dialogare, per proporre, ma anche per proporsi quando si fa una legge ed è anche proprio il caso che vengono ascoltate le parti di professionisti perché altrimenti si rischia di non vedere bene qual può essere l'obiettivo a cui puntare.